Degrado lungo la pista ciclabile alle porte di Venafro. Nel tratto di strada di circa 2 chilometri adiacente alla strada statale 85 che dalla città si estende in direzione di Napoli, sporcizie ed erbacce la fanno da padroni. Spinti dalle segnalazioni di alcuni cittadini postate sui social, ci siamo recati sul posto. Bottiglie, buste e bicchieri di plastica, pacchetti di sigaretti a brandelli e ciarpame vario, il tutto su un fondo d'asfalto in pessime condizioni. Questo lo spettacolo si fa per dire che appare a noi, ai ciclisti sempre più pochi e agli sparuti pedoni che hanno l'ardire di immettersi in quella lingua d'asfalto, larga non più di un metro, districandosi tra sporcizia e vegetazione incolta che in alcuni tratti ostacola addirittura il passaggio. Eppure, realizzata nei primissimi anni 90, quella pista all'inizio era molto utilizzata perché offriva un'efficace opportunità di collegamento tra il lungo rava e l'area della Madonnella, poi il lento declino. Lo scorso anno, proprio in questo periodo, il consorzio di bonifica della Piana di Venafro, con mezzi propri, si occupò spontaneamente della pulizia di quell'area, pur non avendone la responsabilità. L'ente competente è infatti l'ANAS. Ma che dire anche di quei privati cittadini che hanno contribuito a rendere quella strada pubblica così come oggi appare?